Alla domenica i cristiani si ritrovano per celebrare insieme l'Eucaristia, la cena di Gesù, si ritrovano per ritrovarsi, per stare insieme e si ritrovano anche per ascoltare la parola. Ecco insieme a voi vorrei proprio fermarmi su questo aspetto, un attimo su questo aspetto, ascoltare la parola. Ci troviamo la domenica dopo una settimana di impegni, di lavoro, di attività, di gioia, di sofferenze, proprio perché ci aspettiamo di trovare nel momento dell'Eucaristia la possibilità di ascoltare una parola buona. Una parola buona. E noi abbiamo bisogno di ascoltare delle parole buone. Abbiamo bisogno di ascoltare anche una parola che, se agli occhi di molti, sembra antica, superata. In realtà può essere una parola nuova. Può essere una parola che ha la forza e la tenacia di un seme, di un seme che viene collocato nel terreno buono. Mia, siamo un po' molto felice, aiutaci da fare nella nostra famiglia, abbracsa, doveremo un amore, la pace e la gioia. Ajutaci a stare insieme nella storia e nel dolore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.